sai rimettete bene come prima me lo dai farvi vedere il tuo bel primo piano ah scusa eccoci a posto dai ciac ma secondo me si è mossa prima era 47 poi 50 ok 47 si levi morto che fai mano mano 52 ti ricordi che avevo voglia a voglia che diamo l'anno 66 ma sto fatto pare che respira trasportati e dici no le misure vanno bene adesso torniamo con il stracciato di come è morta aspetta ma questa è rasta che è di giamaica che mi aiuti per favore dall'altra parte collega ecco adesso possiamo trasportare trasportare trasportarlo ecco che arriva la la famosa patonsa patologa con l'assistente della patonsa che si chiama patonsa ha già capito tutto ma ci rete l'accia poraccia questo ha fatto proprio una brutta mamma mia è brutta è brutta lei non è chissà come è morta bisogna tagliare assistente bistroi, la forbice ha ragione affetti mary poppins sono la mamma di queste due mary la faccia sei morta ricordatelo incidenti che cosa è questa è la prima prezzo prezzo bene bene eh pensa a me alcolizzata ma con il plastino no accidenti questo costa un sacco di soldi ma che cosa può essere l'ammazzata ma io dico no così 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 un po' più giù la gamba un'altra gamba ma cammina cammina avanti cammina sull'altra gamba salta indietro il nostro miglior a questo pollice in verticale grazie 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 grazie